Buona domenica a tutti signore e signori, oggi è il 24 di dicembre, buona vigilia di Natale a tutti voi, mi raccomando festeggiate bene con la vostra famiglia, potete andare fuori, fate il cazzo che volete Ma oggi, come ben sapete, è la domenica delle news, quindi vi darò oggi 4 news della settimana, ce l'ho qui in ordine, ma prima vi ricordo di seguire su Instagram, su Youtube, su Twitch e su TikTok come TheGamerOfSparta Partiamo dalla prima notizia, da venerdì, ovvero già scorso fa, è uscita la serie tv di What If stagione 2, a me mi è piaciuto tantissimi i primi due episodi, sto continuando a vederla E la serie in teoria, anzi non in teoria, finisce il 31 dicembre del 2023, quindi a capodanno, quindi sarà una puntata molto, diciamo, come dire, esplosiva, se vogliamo dire così E finiamo l'anno in bellezza con l'ultima serie Marvel, dopodiché l'anno prossimo ci sarà la serie di Echo, come protagonista abbiamo Maya, diciamo, l'eroina Marvel sordomuta Che ha a che fare anche con Daredevil e Kingpin, ma questa è un'altra storia Come seconda notizia abbiamo già dei leak riguardante una probabile PlayStation 5 Pro Infatti già hanno dato dei leak riguardanti il peso specifico della Play, la forma, eccetera Ovviamente non vi metterò l'immagine perché non voglio rovinarvi la sorpresa Ma se fosse in teoria tutto così, in teoria l'anno prossimo dovremmo vedere già qualcosa sulla PlayStation 5 Pro Per la precisione, verso settembre-ottobre Ora, cosa ne penso? I leakers devono sempre morire, come al solito Partiamo dalla terza lunizia perché anche l'anno prossimo ci sarà una novità importante Riguardante nel mondo di Call of Duty, ovvero forse ci sarà la remastered di Black Ops 2 È già stata vociferata questa voce in quest'anno E speriamo che sia così perché non vedo l'ora di rigiocare ai vecchi capitoli di Black Ops L'ultima notizia che vi voglio dare è a quanto pare che Kojima stia lavorando su un film live action di Dead Stranding Non è possibile che ci sia una notizia migliore di questa Un live action fatto a film di Dead Stranding sarebbe ideale L'unica cosa che mi manca da sapere è anche quando faranno questa cazzo di live action serie tv di God of War Quello mi interessa molto di più di live action di Dead Stranding Però Dead Stranding mai metterlo da parte Con queste news sono finite qui Io vi lascio alle vostre vacanze natalizie Vi ricordo sempre di seguirmi sulle altre piattaforme E noi ci vediamo ragazzuoli in un prossimo video Buone festività natalizie a tutti voi